Buongiorno a tutti, sono Alberto Lazzarin, faccio parte del gruppo specialistico di prevendita come VR Architect e mi occupo di cloud platform in ambito convergente e iperconvergente. Oggi andremo a parlare della VMware Cloud Foundation on Mixed Rail, la soluzione più integrata ad oggi sul mercato dell'iperconvergenza. Ad oggi tutti quanti parlano di cloud perché, andiamo a vedere i principali motivi, il cloud è veloce da deployare, il cloud è facile da usare, il cloud è semplice da mantenere. Questo è quello che noi ci ritroveremmo in un ambiente cloud una volta passata la nostra carta di credito, stipulato l'abbonamento, un semplice pannello di gestione che ci permette con dei semplici click di andare a distanziare tutti i servizi che vogliamo, quando vogliamo e come vogliamo. Cosa sarebbe bello? Cosa sarebbe interessante? Sarebbe interessante poter avere la stessa esperienza on-prem, nel proprio data center, senza dover andare ad appoggiarsi a cloud provider esterno. Questa è ovviamente la risposta che Dell Technology è in grado di proporre oggi a tutti i suoi clienti, ovvero un unico pannello di gestione il quale consente di provisionare, selezionare i servizi che si desiderano istanziare all'interno della propria infrastruttura data center. Quindi qua abbiamo solamente qualche esempio che va dalla creazione di semplici macchine virtuali, che possono essere sia istanziate on-prem che sul cloud, oppure da una semplice creazione di un'utenza Active Directory. Ovviamente il portale Sales Service è solamente parte di tutto questo, è solamente la visualizzazione finale, ma cosa c'è dietro a una piattaforma cloud, a un approccio cloud on-prem? Che cosa non consente di fare tutto quello che il cloud ad oggi consente invece di fare? Andiamo a vederlo più nel dettaglio. Guardiamo un esempio classico di un qualsiasi cliente. Quello che ci si ritrova davanti, che non consente di andare a gestire task di alto livello, task che comportano di non andare ad eseguire più operazioni ripetitive, operazioni che sono time consuming, operazioni che non mi consentono di migliorare il mio business, è il mantenimento di un'infrastruttura on-prem. Perché ricordiamoci bene che quello che il cloud mi espone è solamente un pannello di gestione. Non mi fa più vedere quello che è ovviamente l'infrastruttura sottostante. Per costruire una piattaforma cloud io devo partire dall'infrastruttura e andare poi a deployare tutto quello che consente di operare in maniera automatizzata a livello applicativo. Quindi partiamo dall'infrastruttura. L'infrastruttura ovviamente è composta da diversi componenti. Questi componenti vanno mantenuti sia a livello hardware che a livello software. Quindi che cosa mi ritroverò? Un'infrastruttura che ha i suoi firmware, i suoi livelli di software, i suoi livelli di driver che vengono rilasciati con cadenza diversa a seconda di quello che poi è il suo life cycle. On top a questo ovviamente mi ritroverò tutti i componenti software. Quindi dalla virtualizzazione fino alla virtualizzazione del network, passando dalla virtualizzazione dello storage, monitoraggio e automazione. Tutte queste componenti vanno mantenute e devono essere interpolabili tra loro in modo che funzionino. Cosa che non è del tutto semplice. Come fare per andare ad indirizzare tutti questi requisiti in modo da semplificarci la vita? La soluzione ovviamente è l'adottare una soluzione ingegnerizzata. Ingegnerizzata significa pretestata, prevalidata. Sia dal momento in cui viene costruita, fino alla gestione, fino al supporto unificato e tutto questo vale dal primo giorno in cui viene installata e per tutto il suo ciclo di vita. Questi sono i cinque punti fondamentali che consentono di andare ad approcciare un'esperienza cloud-oriented. E questo è quello che Dell Technology offre nel suo portafoglio di prodotti e soluzioni. Andiamo ora a capire come e perché nasce questa esigenza. Partiamo dal primo punto. Che cosa c'è alla base di tutta questa infrastruttura? Ovviamente la base infrastrutturale è VxRail. Che cos'è VxRail? VxRail è una soluzione ingegnerizzata iperconvergente. L'unica soluzione sul mercato ad essere sviluppata tra Dell EMC e VMware. Ciò significa che ad un unico tavolo sono sedute persone sia di VMware sia di Dell che partecipano allo sviluppo e al miglioramento continuo di questa soluzione. I componenti base di questa soluzione ovviamente sono la parte vSphere che virtualizza le virtual machine, la componente vSan che virtualizza la parte storage e ovviamente la soluzione server del PowerEdge. Queste tre componenti messe insieme e ingegnerizzate creano quello che è la soluzione VxRail. Quali sono i punti di forza della soluzione VxRail? Oltre all'ingegnerizzazione unica sul mercato tra Dell EMC e VMware, la possibilità è quella di essere flessibili a seconda delle necessità d'uso che vado ad incontrare, ovvero licenze a partire dalla standard fino ad arrivare all'Enterprise Plus, la trasparenza di tutte le operazioni che io vado a gestire dalla semplice creazione di una macchina virtuale fino alla verifica dei log, delle performance, dell'upgrade. Tutto questo viene fatto semplicemente dal virtual center. Non c'è un'interfaccia di gestione aggiuntiva per gestire tutta questa piattaforma, viene fatto tutto all'interno del virtual center. Single click upgrade o update o patching, ciò significa che da un unico click posto all'interno del virtual center io vado a fixare la mia installazione, aggiornarla o passare di versione. E tutto questo riguarda qualsiasi componente all'interno della soluzione. Questo è grazie all'integrazione di tutto lo stack hardware e software e all'automazione e al lifecycle management. Oltre a questo, che è la base della nostra infrastruttura, posso andare a costruire on top a questa infrastruttura ingegnerizzata tutto ciò che mi serve per erogare una piattaforma cloud. Ma come abbiamo già detto, partiamo ovviamente dalle fondamenta. Quindi la parte infrastrutturale è basata su Vixray. Andiamo a vedere che cosa significa realmente ingegnerizzazione e perché i clienti non hanno la possibilità di ingegnerizzare una soluzione. Ingenerizzazione significa avere a disposizione all'interno della propria azienda, della propria attività, in questo caso all'interno di Dell Technologies, di una serie di laboratori sparsi per il mondo all'interno dei quali la soluzione viene sviluppata, testata, validata, stressata e integrata con altre soluzioni esterne, che possono essere switch reti di differenti vendor oppure differenti tipi di dischi meccanici, SSD, dischi di cache, tipologie di schede di rete e così via dicendo. Oltre a questo ovviamente teniamo in considerazione dell'integrazione con le terze parti perché ovviamente un ambiente di questo tipo deve potersi integrare anche con l'attuale installato che è presente presso il cliente. La creazione di un ambiente di questo tipo richiede un investimento molto alto in termini di tempo, risorse ed economico, pertanto non è così semplice, se non impossibile far sì che un cliente possa creare una sorta di laboratorio all'interno della sua azienda. Motivo per cui Dell Technology ha scelto di fare questo al posto del cliente, così da poter dare un valore aggiunto di un alto livello al cliente finale, così che il cliente debba scordarsi totalmente di tutti questi test, integrazioni e validazioni. Ovviamente questo che cosa consente? Questo consente di avere un sistema testato, validato, automatizzato e supportato end-to-end da un unico punto di gestione. Per qualsiasi tipo di problematica il tipo di supporto è unificato, che sia software, che sia hardware, la parte di supporto viene gestita end-to-end da Dell Technologies. Non ho più escalation che devono essere fatte verso l'hardware vendor, il software vendor, viene tutto gestito end-to-end. Tutto questo grazie ai laboratori di test sviluppo, dove vengono testati qualsiasi tipologia di scenario, che sia l'installazione, quindi al giorno zero, che sia la gestione dei day-by-day al giorno uno, che siano le espansioni e gli upgrade, il cosiddetto giorno tre. Che cosa mi porta a operare poi su una piattaforma private cloud? È sempre comunque l'integrazione. Una volta che sviluppo l'infrastruttura, è giunto il momento poi di andare a spostarsi sulla parte applicativa. Quindi costruiamo la nostra soluzione partendo dal mattoncino base, dall'infrastruttura VX Rail, andiamo ad integrare tutte le componenti che abbiamo visto ora e cominciamo a costruire il nostro private cloud on-prem. Aggiungiamo la virtualizzazione del network, aggiungiamo la suite V-Realize, che consente di monitorare, automatizzare. A questo punto siamo in grado di erogare quelli che sono i workload aziendali, che siano app tradizionali, che siano cloud native app. Tutto in un'unica piattaforma. Perché? Perché tramite la costruzione di questa soluzione private cloud, sono partito da un'infrastruttura ingegnerizzata, on top a questa ho messo una soluzione software ingegnerizzata. Questo consente di avere un unico life cycle management che comprende sia l'infrastruttura che la parte software che mi va ad erogare la piattaforma cloud. Da che cosa è composta? Andando ad esplodere tutte le componenti, come abbiamo già visto, la parte bassa dell'infrastruttura è composta dal VX Rail, la parte soprastante è composta dalla VMware Cloud Foundation on VX Rail. La VMware Cloud Foundation on VX Rail, altro non è che la combinazione di N componenti software che mi consentono di erogare la piattaforma cloud. Quindi, dalle componenti base che mi consentono di virtualizzare le virtual machine, la virtualizzazione dello storage con vSan, la virtualizzazione del network con NSX. L'automatizzazione dei processi che essi siano creazione di utenze, creazione di macchine virtuali, aggiunta di risorse o blueprint più integrati che possono richiedere l'approvazione a livello di costi, l'approvazione a livello di business unit interne, vengono fatte tutte dalla suite VRealize che consente oltretutto di fare billing interno, billing esterno, chargeback, showback. La forza di questa soluzione è l'integrazione totale end-to-end, ovvero integrazione della parte hardware e integrazione della parte software. solo questo approccio consente di avere un'esperienza approccio cloud on-prem. Andiamo ora a vedere il dettaglio dell'architettura, andiamo a vedere che cosa si può istanziare, come e cosa consente di essere così flessibili. Queste sono le componenti, quindi come già detto prima, le componenti base che troviamo in basso nella rappresentazione e le componenti opzionali. Che cosa significa? Significa che all'interno di un'unica piattaforma io posso andare a distanziare virtual machine tradizionali, cloud native application o VDI, sempre utilizzando la stessa piattaforma, non spostandomi mai da quello che è la mia soluzione. In un unico click posso andare a distanziare uno stack completo VDI Horizon, qualora nasca la necessità, oppure posso andare a distanziare una piattaforma in grado di gestire tutta la parte container. On top a questo tutti i servizi verticali di monitoraggio e re-billing. Le componenti che vanno a costruire la VMware Cloud Foundation on VixRail sono ovviamente l'SDDC Manager, che è quella componente che mi consente di monitorare, operare sulla mia piattaforma cloud, il Cloud Builder, quella componente che costruisce durante il giorno zero la piattaforma VMware Cloud Foundation on VixRail, il VixRail Manager, altro non è che la piattaforma che va ad integrare e automatizzare tutto il lifecycle e l'automazione a livello hardware, e ovviamente tutta la parte di networking che viene affidata alla componente dell'AMC Power Switch con l'Open Networking versione 10. Come si va ad integrare la parte software con la parte hardware? tramite la comunicazione dal VixRail Manager all'SDDC Manager, quindi l'SDDC Manager e il VixRail Manager comunicano tra loro che cosa comunicano, lo stato attuale dell'infrastruttura, se c'è necessità di un upgrade, l'allarmistica, tutto quello che mi serve per gestire la mia piattaforma. E anche in questo caso parliamo di integrazione e lifecycle end-to-end. Questo è un esempio di monitoraggio della parte SDDC, quindi del mio Software Defined Data Center, in questo caso ho una completa visione, una completa overview di come sta tutta la mia infrastruttura. In questo caso l'esempio riguarda un'installazione base composta da un workload domain di management e un workload domain invece effettivo dove girano le mie piattaforme. In questo punto invece vado a vedere come sta nello specifico il workload domain o i workload domain a livello di utilizzo di risorse. Qua invece è dove viene la cosiddetta magia, ovvero qua è dove vado ad aggiornare tutto lo stack partendo dalla parte bassa dall'infrastruttura fino ad arrivare a tutto lo stack superiore a livello software. Quindi vado ad integrare tutta la parte di XRail con tutta la parte VMware Cloud Foundation on XRail semplicemente facendo un click facendo download now oppure schedulando l'installazione in un momento dove posso scegliere io che so in cui la piattaforma non è particolarmente utilizzata quindi notturno quindi durante le pause pranzo posso comunque scegliere pianificare. Analizziamo ora i benefici i benefici tangibili di una soluzione di un approccio di questo tipo. VXRail e VMware Cloud Foundation sono al centro di questi benefici al centro di questi componenti. Tutto attorno è stato costruito l'ecosistema che consente di avere una piattaforma integrata on-prem. In questo in questa rappresentazione vengono rappresentate quelli che sono i componenti principali. Andiamo ad esploderle andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa sono. Parlando di tutto questo andiamo a parlare sempre e soltanto di software defined ovvero quello che mi consente di essere agile quello che mi consente di essere rapido sicuro e staccarmi da quelli che sono i task odierni nel data center è grazie al software quindi tutta la piattaforma è basata su software defined che sia software defined compute software defined networking software defined storage definisco tutto a livello software tramite policy tramite meccanismi di automazione tramite provisioning automatizzato e tramite ingegnerizzazione a livello software questo mi consente di essere agile mi consente di dimenticarmi della mia infrastruttura sottostante tutto viene definito tramite policy e quindi ho la massima flessibilità non è stato detto prima appunto perché questo punto lo vado ad affrontare la piattaforma ovviamente consente di ibridizzarsi fin da subito oppure quando il cliente ne ha necessità che cosa significa significa che la piattaforma può essere estesa estesa verso i maggiori cloud provider quindi che siano Amazon che siano Microsoft Azure che sia Google Cloud e non per ultimo annunciato da poco anche Oracle nonché tutti i partner VMware quindi IBM e tutti quei partner che siano VMware Cloud Verified ovviamente mantenendo la stessa user experience la stessa piattaforma che mi ritrovo on prem la ritrovo anche su tutti questi cloud provider questo per far sì che l'utente finale non debba andare ad imparare una piattaforma differente dall'attuale e questo ovviamente mi consente un grande risparmio di tempo e un grande risparmio di risorse piattaforma multipurpose che cosa significa significa che in un'unica piattaforma posso andare a distanziare diversi tipi di workload quindi a partire da virtual machine tradizionali desktop oppure container oppure machine learning come viene fatta questo tipo di chiamiamola segregazione segmentazione posso sceglierlo io significa che qua in alto vediamo il cosiddetto management domain il management domain altro non è che un cluster dove risiedono tutte le mie macchine di gestione macchine di gestione che si occupano del monitoraggio l'istanziamento di nuovi servizi il controllo di tutto quello che è il workload di produzione la seconda componente è il workload domain ovvero dove effettivamente girano i workload che essi siano virtual machine database o WDI il o i workload domain possono essere di diverso tipo diverso tipo significa che possono avere caratteristiche diverse workload domain uguale uno o più cluster uno o più cluster di diverso tipo traduciamolo posso avere un workload o un cluster di tipo all flash per carichi di lavoro critici quindi associandogli per esempio una policy di tipo gold posso avere un workload domain di tipo silver quindi che può essere potenzialmente ibrido quindi per quelle applicazioni che non necessitano di particolari performance oppure posso per esempio avere un workload domain stretched cluster per quelle applicazioni che necessitano business continuity in questo modo ho già fatto una segregazione su tre livelli nulla vieta poi di dimensionare questi workload domain in maniera totalmente differente l'una dall'altra quindi sia per concetti di licensing sia per concetti di dedicare più o meno risorse sia per concetti di più o meno over subscription sia per concetti di dire la proteggo in business continuity o in disaster recovery a seconda di quelle che sono le mie necessità vado a costruire un cluster o workload domain dedicato e specifico in questo caso sono rappresentati anche due casi particolari ovvero desktop con offload su gpu quindi per rendering 3d per esempio oppure machine learning in questo caso l'offload su gpu serve per andare a calcolare quelle che sono le mie mole di dati o imparare e distruire sistemi flessibilità totale la parola d'ordine è flessibilità quarto beneficio la scalabilità come la soluzione è flessibile in fase di implementazione dimensionamento iniziale la scalabilità ovviamente è granulare io vado ad espandere vado a far crescere solamente e soltanto quel workload domain o quel management domain che sta crescendo quindi non ho nessun tipo di vincolo a far crescere linearmente tutta l'infrastruttura posso avere anche dei workload domain che restano fissi dal primo all'ultimo giorno della loro vita o workload domain che necessitano invece di una crescita diversa non lineare rispetto agli altri parola d'ordine in questo caso flessibilità ed elasticità single click update quindi anche in questo caso io ho l'ingegnerizzazione totale posso scegliere quali workload domain o management domain aggiornare patchare qual è l'esempio classico in questo caso se ho un'applicazione che ancora non è stata certificata per l'ultima release di vSphere o vSAN andrò ad aggiornare solamente gli altri workload domain lasciando invece intoccato quel particolare workload domain e anche in questo caso la massima flessibilità nell'andare a selezionare chi e quando aggiorno come detto prima il deployment automatico di un workload domain di tipo horizon cosa significa al giorno zero io scelgo di installare tutta questa soluzione tutta questa piattaforma per istanziare virtual machine ad un certo punto mi accorgo che ho necessità di ospitare all'interno della stessa soluzione workload di tipo horizon quindi di tipo VDI che cosa faccio con un semplice click viene istanziato tutto lo stack che consente di erogare la piattaforma VDI e quindi anche in questo caso mi consente di essere agile mi consente di essere scalabile vado a creare dei cluster ad hoc dedicati al VDI che essi siano VDI base linked clone full clone o che siano macchine virtuali o VDI che necessitino di GPU dedicati anche in questo caso flessibilità totale ricapitolando per concludere come abbiamo visto la piattaforma consente di portarsi on prem quello che è la user experience del cloud quindi avere un portale che mi consente di stanziare n tipologie di servizi n tipologie di task n tipologie di applicazioni a seconda di quelle che sono le mie necessità quindi se il service integrabile flessibile costruito ad hoc per le mie esigenze una governance totalmente integrata che cosa significa come abbiamo visto io non mi sono mai spostato da questa piattaforma e abbiamo citato carichi di lavoro molto differenti tra loro IaaS quindi virtual machine container VDI o cloud native application continuous delivery ciò significa che non devo più andare a fare test di integrazione di matrici di compatibilità di componenti eccetera eccetera la soluzione è integrata e ingegnerizzata end to end l'unica soluzione sul mercato ad avere questa caratteristica dall'infrastruttura al software soprastante è tutto ingegnerizzato da Dell Technologies e VMware blueprint unificati anche in questo caso significa che posso andare ad integrare tutto a livello di codice il sistema supporta le API quindi qualora io on premie in casa abbia già scelto un approccio DevOps non vado a fare altro che a integrare il sistema deployment flessibile posso scegliere se prestare on prem o se espandermi verso cloud pubblici o se espandermi verso partner VMware certificati cloud ma anche in questo caso lo scelgo la piattaforma è predisposta fin dal principio fin dal giorno zero a farlo non sono vincolato nel farlo ma ho sempre la possibilità di farlo e questo ovviamente riguarda anche l'estendibilità della piattaforma tutto questo per avere la on prem avere la governance a livello dei costi sia a partire dall'infrastruttura fino ad arrivare al costo finale della singola virtual machine del singolo container del singolo VDI tutto questo senza precludere la flessibilità e il controllo totale della soluzione grazie a tutti se ci sono domande adesso è il momento per farle e avrete la vostra risposta grazie ciao a tutti